Per favore Ti sta insultando Bene, saluti Salutamelo Ciao co***e, ti sento È vero, lui ti sed No, lui ti ha mutato, non puoi sentirla Mi ha posto il volume, non mi ha mutato Ci vediamo tra poco in sposto, così vi faccio contendere queste qua Va benissimo Ora con l'ho smutato sei andato, nice Senti, attiviamo la corrente Allora, spara qua Oddio, laggata qua Sì, lagga quando attivi la corrente Corrente Senti, facciamo, io faccio i primi 7,50 e tu fai i primi 7,50 No, no, aspetta, fai i primi 7,50 Così almeno Fai uguali, importante No, 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 così almeno L'importante è che andiamo avanti Eh appunto, tu prima fai i 7,50 e dopo li faccio io Ok, mi servo altri tipo 3 zone Vai, vai Ok, vai Allora, lascia fare a me Mettiti lì all'angolino e lascia fare a me C'è lui il tuo mare Eh, sto finendo i colpi Eh vabbè, uguale, lascia fare a me No, vai lì all'angolino, dove sta il tuo mare No No, lascia, lascia a me Dietro, dietro Ma tanto 7,50 quanto fissi zombie li facciamo Fra ci si ha fatto vedere nell'angoletto, porca vacca Tu, tu scendi, tu scendi Eh, più buono, vai, indoma avanti Ora facciamo 1.300 E io non ci emmo per sparare Zero Eh, da usare Toma Ah, Toma Prima facciamo 1.300 per la me più 40 1, 2, basta Quindi, accoltegliate Attenso Bello questi double Perché sto Toma non è andato? No, sono caduto Perché c'è un Toma giù? Perché c'è una granata? Mannaggia Oh, 1.400 Mi ammè più 40 Beh, è sicuro l'ammè Eh, va a me Vai, vai, vai Eh, non posso prendermi Tranquillo, tranquillo, vai Ma che cazzo è figo quello blu Fa c***o È pure del mio c***o preferito Oh, in che caso è la stia? Eh, è ancora inizio Vai, vai Perché non mi è andato? Vai, vai, prendi, prendi, prendi Apri Perché non me l'ha preso Macchia mortale, boh Vai, spara, 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 spara Eh, mi sa tanto Eh, mi sa tanto Basta, mamma Ma che è? Va, va Va Dai, mi sei sotto al c***o Ok, vai Ti prendi le mie P40 e andiamo Vai, vai, apri, apri, apri Oh, oh Vai, apri Veloce Aspetta Apri, apri, apri Ah, i cani Allora, non aspettiamo Ma che c***o sono? Sta cosa? È Dupster Eh, ma va a far cosa Ma che c***o sono? Aspetta, voglio vedermi uno Guarda che belli che sono Guarda che figli Guarda Aspetta Ah È l'ultimo Non è vero No Questo è l'ultimo Aspetta Non è vero Aspetta Vai Non è vero Perché c***o Non mi ha caricato Non è vero Apri, apri, apri Apri, apri Apri, apri Veloce No No Teniamo questa carta Cos'è? Uh, Stami Eh, quick bone Eh, prendiamo il KM Dai, io sto bene di colte Al prossimo io prendo l'STG Eh, io Ma perché non mi carica la mia più 40? Io ho già smutato il bello 28 Figlio mio di sangue Ah Però tutti prendiamo il KM che è meglio Tu è rosso No, faccio Prendiamo il KM Prendi il KM E' quell'istante per la patria L'istante più patriota Buono, 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 buono Vai, prendi il KM No, 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 no No, no, no Allora Apri Apri Il KM Tra il quick serve No, non prendere Non prendere Lo spendo i soldi Abbiamo Abbiamo Mi serve un'altra E vai via 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 E fammi un po' sparare Eh, ma c'è le punti E cazzo vuoi Quello Quello Sono punti So io Mannaggia 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 Sono rosso Ma tu non ce l'hai quitta L'iquitta Il quitta Oddio Guarda che cazzo è il KVK Ma non ce l'hai la N Sarebbe la N Sì, guarda Guarda le skin che ci stanno sopra La peggio merda Non davvero Sono bandiere A cazzo Va, la prendo Va, la fai punti Madonna Puttana Non ce l'hai dietro l'ultimo Vai, vai Rianima Io do Io ho capito una cosa Su sta mappa Non accortellare Eh, andiamo avanti Provello Io direi Qui crema in serve Io direi KVN Ma che cazzo Vabbè Ma è questa Sostruma C'è solo cosa Meglio Anzi Stata Cosa Frate una volta Che apriamo Dove Apri 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 Spara 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 Aspetta Scendi Stiamo scendendo Come te coglia Come un Vai, io ti sparo Io ti copro prendi 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 parla di noia aspetta ah ho finito i colpi va dai va dai apri 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 i colpi aspetta io pure devo comprare i colpi comunque il quick service va 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 prendi apri apri e non va apri un'altra volta e poi apri io o dietro 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 e io sono sceso ho detto dietro e mi hai bloccato te in gioco sblocca tre anni no ma perché mi blocchi ho detto dietro ho capito mandato a essere fatta ma tosse cuffie sono tutte rotte essere stato si lo so a volte un bar non non capisco il perché comunque la tattica è buona e no che palle essere e failare perché tiboli mi blocchi no io non ho bloccato ho detto dietro si dietro poi ti sei lanciato a destra non avevo colpi è un problema è questo i colpi finiscono un po subito è inizio fammi fa punti fammi fa punti perché è uguale fra no non è uguale fidati e occhi ai punti lo apre ma così si inersiamo meglio andiamo più avanti il gioco quando si sblocca amato tanto avanti è per quello che trova vedo che ci dà il coso la cagliato ma fatti va apri apri buono mai avviso e ora prendiamo la metà 40 ma non dire non le dà i punti no costa mille due no vabbè che canti quell'arma di meta costa mille due qual è l'olimpia di pro player in the world the world are e io sto a crepare mannaggia aspetta fammi fa i punti così ma il problema di starma è la ricarica troppo troppo piano aspetta non prenderli cazzo non beh sai prendi quella è un po 40 ma perché hai problemi a prendere armi non lo so tra appena arriva a 5.000 mastang e selli no io no no e via so so pericolosa lo so però posso essere ma ancora giochi a quel bel gioco tra dobbiamo fare così uno sta dietro uno avanti se proprio vogliamo io sto qua su senza te sei rotto i polli muori non c'è la testa muori non insistere guarda vaffanca apriamo apriamo siamo ancora qua un po fine cani aspetta restiamo fine cani ma possono spawnare a random siamo già al 5 vabbè ciò la facciamo al 5 ancora ce la facciamo poi arriviamo facciamo i punti fino al K fino all'N 94 e poi apriamo e prendiamo l'N capi però non carica mi passo i nervi sta cosa che carichiamo ci mette mezz'ora a caricare uomo carica prendo aspetta vai vai madonna sto zombie no 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 mi hanno bloccato mi ha bloccato qualcosa aspetta aspetta vabbè attento gli sto a far punti la pistolina furio uccidiamo la furia di pistola ok apriamo apriamo apriamo